Questo leggero ti presento da Scott McFindichotto, in edicola. Ehi, puoi essere un giocante? Sì, anch'io! E dito, guarda un mostro! Oh no! Così, possiamo fare il caffè? Ehm, ok, eccolo lì. Grazie! Hai un qualcosa? Ehm, io... Potassio! Cosa? Ti dice potassio? Potassio! Ammettati, stai in vita! Sì, mi stiscono in attorno, posso avere nocci? Ok, grazie, arrivederci! Tassio! Possiamo montare di UFO al mieno! Non siamo guarda braccia, aiuto, uomo cane! Non ti preoccupare, io ti toglie! Siamo in due bracci! Grazie! Va bene! Va capito! Siamo pronti, rock and roll! Ehi! 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 Scottex Tools Super Complemation Noto! Fine! Andate via! Via Hot Detto! Uuuuh! Oh mio Dio ragazzi, la TV ho detto che il mondo sta per esplodere! Io non lo so! Ehi! Scottex Tools Super Complemation Noto! Mi com' è Scottex Mega Cinco Giotto Pen! Mi tenuto in sua casa! E se a teya! Up in the Joe.